Ciao, sono Gnocco. Ho tre anni. La mattina mi sveglio sempre felice perché alle sette arriva Ilaria con la mia colazione. Mi riempie di coccole e grattini sulla pancia, poi mi fa uscire per correre e sgranchirmi un po' mentre mi lavano la cameretta. Che bello giocare! L'aria fresca, la terra, l'acqua, il fango! Ho conosciuto tanti altri amici come me qui. Lei è Anna. Quando ci portano fuori insieme ci divertiamo un sacco, ci sentiamo liberi. Diciamo che non si sta male qui, ma è solo una parte della mia giornata. Poi bisogna rientrare e anche se siamo in tanti, in fondo siamo sempre soli. Ho conosciuto, ho conosciuto. Grazie a tutti